Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. La cronaca in primo piano partendo da Vittoria nel Ragusano, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto una donna di 35 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Era infatti in possesso di droga da spacciare sia nella propria auto che nella propria abitazione. Vediamo il servizio. Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa, finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere, nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto una 35enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, in una via centrale di Vittoria, l'attenzione degli operatori di polizia, che stavano effettuando un posto di controllo, è stata attirata da un'autovettura con a bordo una donna, la quale, alla vista della volante, ha invertito bruscamente il senso di marcia, aumentando sensibilmente la velocità al fine di eludere un eventuale controllo. Pertanto, il personale operante si è messo all'inseguimento dell'auto condotta dalla 35enne, che poco dopo è stata raggiunta e fermata. Il controllo ha dato esito positivo, in quanto, all'interno dell'autovettura, è stato rinvenuto un involucro in cellofan termosaldato contenente circa 100 grammi di cocaina in pietra purissima, occultato in uno dei vani portaoggetti dell'auto. Nel prosieguo, i poliziotti hanno eseguito la perquisizione domiciliare presso l'abitazione della donna e hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, oltre a tutto il materiale necessario per il peso e il confezionamento sottovuoto della droga. La 35enne è stata tratta in arresto e condotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. A Catania, invece, la polizia ha individuato il conducente dell'auto che ha investito e ucciso un anziano in Corso Italia. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La polizia ha identificato il conducente dell'auto che ha investito un anziano, poi deceduto, in Corso Italia a Catania. Dalle indagini, supportate anche dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area interessata, è emerso che alla guida del veicolo c'era un 63enne residente in provincia di Catania. Agatino Botta stava attraversando il Corso Italia all'altezza dell'incrocio con il Viale Libertà quando è stato investito, come mostrano anche le immagini acquisite, dalla vettura guidata da un uomo che si è fermato ed è sceso dall'auto solo per pochi minuti. Al sopraggiungere in quel frangente dell'auto della polizia, infatti, il conducente ha riferito di essere un semplice soccorritore dell'anziano che aveva notato disteso a terra. Agatino Botta, dopo essere stato trasportato all'ospedale Garibaldi, è deceduto la notte del 2 marzo. Il conducente dell'auto si è quindi presentato spontaneamente il 4 marzo presso il commissariato centrale, asserendo di aver appreso della morte dell'anziano dagli organi di informazione e di avere il dubbio se la vittima fosse stata da lui effettivamente investita o fosse caduta autonomamente al sopraggiungere della propria auto. Sulla vettura sono stati disposti appositi rilievi svolti dalla polizia scientifica, mentre sulla salma di Botta è stata disposta l'autopsia. All'indagato sono stati contestati i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. Arrestato per furto evade dai domiciliari dopo 15 minuti e viene nuovamente tratto in arresto dai carabinieri. Si tratta di un 27enne, il fatto è avvenuto a Trapani e l'uomo è poi finito in carcere. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Erice hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 27 anni per furto aggravato in danno di un'attività commerciale. I militari dell'arma, durante un servizio di perlustrazione notturno, hanno notato un uomo che usciva da uno spazio ricavato dalla manomissione della Sara Cinesca di un supermercato di Via Marconi. Il soggetto, alla vista dei carabinieri, si è dato a precipitosa fuga dopo aver nascosto la refurtiva in un'aiuola. Il breve inseguimento è terminato nel giardino di un'abitazione poco distante, dove il 27enne si era introdotto nella speranza di sfuggire alla cattura. Nella circostanza sono stati recuperati e sottoposti a sequestro gli arnesi utilizzati per l'effrazione della porta ed è stata restituita al titolare la refurtiva asportata, ovvero il denaro contenuto in un distributore automatico di bevande. Il soggetto è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, ma dopo appena 15 minuti è stato nuovamente arrestato per evasione, poiché sorpreso nelle vie cittadine da una pattuglia dei carabinieri di Borgo Annunziata. Al termine dell'udienza di convalida, il 27enne è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Restiamo nel Trapanese, parliamo in questo caso dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine sia nella città di Trapani ma anche in provincia, nelle aree considerate a rischio. Andiamo a vedere un bilancio dei controlli effettuati nel mese di febbraio dove chiaramente non sono mancate denunce e sanzioni. Proseguono a Trapani e in provincia i servizi straordinari disposti in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica d'intesa con i vertici delle forze di polizia e i sindaci del territorio. Nel mese di febbraio le forze dell'ordine hanno posto in essere 82 servizi straordinari che hanno riguardato nel capoluogo il centro storico e in provincia, nelle aree ritenute a rischio, i comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazzara del Vallo e Salemi. Sono stati effettuati 4.896 controlli nei confronti di persone sottoposte a obblighi giudiziari, segnalati 187 soggetti alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciate 8 persone all'autorità giudiziaria. Il nucleo operativo tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato, sempre nel mese di febbraio, 47 colloqui e notificato 63 convocazioni emanando 20 provvedimenti sanzionatori e 28 formali inviti a fronte di una media mensile nell'anno 2023, rispettivamente di 17 e di 18. Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di febbraio sono state accertate 638 infrazioni e rilevati 33 incidenti. Nello stesso periodo, l'ufficio patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 65 provvedimenti di sospensione per varie violazioni al Codice della Strada. Nell'ambito dell'attività amministrativa della Prefettura sono stati disposti provvedimenti di divieto di detenzione armi e adottato un provvedimento di rigetto di richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, la cosiddetta white list e 6 informazioni antimafia di contenuto interdittivo discendenti da inchieste giudiziarie e su proposte del gruppo Interforze coordinato dalla Prefettura. Ci spostiamo virtualmente a Floridia, nel Siracusano parliamo di un arresto, un 27enne condotto poi in carcere dai carabinieri e accusato infatti di essere evaso dai domiciliari per andare a commettere un furto. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della tenenza di Floridia hanno tratto in arresto un 27enne in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Corte d'Appello di Catania. L'uomo, già agli arresti domiciliari per furto aggravato, è gravemente indiziato di reiterate evasioni e di furto in concorso, commesso in danno di una ditta di veicoli industriali mentre era sottoposto alla misura cautelare. I militari dell'arma hanno prontamente segnalato le violazioni all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 27enne è stato condotto presso il carcere Cavadonna di Siracusa. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di agricoltura, indennità compensativa e saldo agricoltura biologica, sono stati sbloccati i fondi AGEA, il servizio. In arrivo una boccata di ossigeno per gli agricoltori siciliani. Sono stati infatti sbloccati i pagamenti di AGEA relativi all'indennità compensativa 2023 per un totale di 44 milioni di euro e quelli per il saldo dei finanziamenti del bando agricoltura biologica 2023 da 17 milioni. L'assessorato regionale dell'agricoltura, guidato da Luca Sanmartino, ha trasmesso gli elenchi completi all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, passaggio che consentirà di portare a conclusione una vicenda che ha destato non poche preoccupazioni alle imprese del settore, già messe a dura prova dai problemi causati dalla siccità e dalle sfide di un mercato globale sempre più aggressivo. Queste somme, precisano gli uffici dell'assessorato, si andranno ad aggiungere al 60% di anticipo che le imprese hanno ricevuto a fine 2023 e tutte le aziende saranno pagate a prescindere dai criteri di priorità. Eventi e soprattutto luoghi della cultura in Sicilia aperti gratuitamente domenica 10 marzo per onorare il ricordo di Sebastiano Tusa, grande archeologo e nonché assessore regionale ai beni culturali scomparso tragicamente 5 anni fa. A cinque anni dalla scomparsa di Sebastiano Tusa, la regione siciliana ricorderà il grande archeologo e assessore ai beni culturali con un'intera giornata dedicata al suo straordinario contributo al patrimonio archeologico e artistico. Domenica 10 marzo, infatti, tutti i luoghi della cultura saranno aperti gratuitamente e proporranno diverse iniziative per celebrare il ricordo e apprezzare l'eredità del grande studioso siciliano tragicamente scomparso in un disastro aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo del 2019. Per la Sicilia è un dovere morale celebrare la figura di Sebastiano Tusa, ha dichiarato il presidente della regione Renato Schifani. È altrettanto doveroso, ha aggiunto il governatore, e dare l'opportunità a quanti più cittadini possibile di poter ammirare, con giornate come quella del 10 marzo, l'inestimabile tesoro culturale che lui stesso ha contribuito a riportare alla luce e a valorizzare. Invitiamo tutti quanti a cogliere quest'occasione per apprezzare un patrimonio storico artistico che appartiene alla Sicilia e al mondo intero. Questo evento speciale, ha invece affermato l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, offre a tutti l'opportunità di riflettere sull'importanza della conservazione del patrimonio culturale e di onorare la memoria di una figura così influente nel campo dell'archeologia e della valorizzazione dei beni culturali. Le iniziative programmate includono visite guidate, conferenze, mostre e altre attività dedicate alla promozione della cultura e della storia, valori ai quali Sebastiano Tusa ha dedicato l'intera vita e tutta la sua professione. Il calcio con il Palermo di scena domani contro il Lecco, Palermo chiamato a riscattare le ultime sconfitte in campionato. In vista del match ha parlato mister Eugenio Corini, sentiamolo. Con le partite che avevamo fatto bene avevamo colmato, eravamo arrivati almeno uno dalla promozione diretta e purtroppo le due sconfitte ci hanno riportato indietro da questo punto di vista, e di conseguenza la distanza si è acuita, ma il fatto che noi ci proveremo fino alla fine è in dubbio e questo lo metto, come ti posso dire, in maniera ufficiale che per noi la partita di Lecco vuol dire riniziare un percorso, vuol dire vedere che dobbiamo fare bene noi, perché senza fare punti noi non puoi sicuramente scalare la classifica e magari quello che è capitato a noi in queste due partite può capitare a qualche la squadra che in questo momento c'è davanti in classifica, però noi dobbiamo ripensare a fare il nostro e di conseguenza, come vi ho detto, lo dico da 13 partite fa che c'erano un sacco di punti ancora da fare, ce ne sono ancora tantissimi perché 10 partite valgono 30 punti, di sicuro dobbiamo tornare a farli noi e poi vedremo quelli davanti, dove oggi purtroppo la distanza è diventata più ampia rispetto a quella che era due o tre partite fa e dobbiamo di nuovo colmarla, ma facendo prima di tutto i punti noi e le vittorie a noi. Sicuramente è stata una settimana terribile rispetto a Cremona, Terni, Brescia, se Cremona è un'occasione persa, come vi ho detto, sia dopo la gara che qui prima di preparare la Ternana, sono state le due partite successive che comunque vincendole ci avrebbero permesso di stare agganciati a tutto quello che avevamo fatto e dar valore ancora di più a quello che avevamo fatto dal mese di dicembre in poi, con tanti risultati importanti, contro squadre forti, purtroppo sono state due partite particolari che ci hanno respinto, sono state un pugno nello stomaco che ci ha fatto male, però come dicevo ce ne sono 10 e dunque devi anche pulire questa delusione che c'è, la percepiamo, l'abbiamo noi, la percepiamo nell'ambiente perché l'ambiente era carico, motivato, ci sosteneva ed è normale che queste due partite purtroppo ci hanno ricacciato indietro, il dato oggettivo riguarda anche la classifica, è anche vero che i punti rispetto alla promozione diretta sono diventati di più, ma non è un margine impossibile da recuperare in 10 partite e dunque noi dobbiamo tornare a fare il nostro, anche se oggi il dato oggettivo riguarda la classifica è questo e dobbiamo purtroppo accettarlo e abbiamo pagato duramente queste due partite che abbiamo perso. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.